La nuova serie di documentari del Principe Ferri Art of Invictus non è riuscita a entrare nella lista dei 10 migliori programmi di Netflix, spingendo gli esperti reali a mettere in dubbio l'importanza di Meghan Markle e del Duca. Il Principe Ferri e Meghan Markle hanno esaurito le forze dopo che le nuove dochiuserie del Duca non sono riuscite a conquistare il primo posto su Netflix, ha affermato un osservatore reale. Art of Invictus segue diversi atleti, mentre si allenano per gli Invictus Games dello scorso anno, iniziati da Ferri nel 2014, per i membri del servizio Feriti o Infortunati. Lo spettacolo ha visto anche Ferri parlare dei suoi problemi di salute mentale, mentre diverse scene vedevano Meghan Markle sostenere il Duca. Tuttavia, secondo quanto riferito, lo spettacolo parte di un accordo da 80 milioni di sterline con Netflix, non è riuscito a entrare nella top 10 del colosso dello streaming, né negli Stati Uniti né nel Regno Unito, portando alcuni esperti reali a mettere in dubbio l'importanza dei Sussex. Non riuscire a entrare nella top 10 di Netflix, dimostra semplicemente che hanno perso molto slancio. Le persone semplicemente non sono più interessate. Ha detto a Sky News Australia, la scrittrice e conduttrice Esther Krakue, ha aggiunto. Come può la serie di documentari del Duca di Sussex, non entrare nemmeno nella top 10 di Netflix. Dimostra semplicemente che le persone sono spente, e non sono più interessate a ciò che il principe ha da dire. La signora Krakue non è stata l'unica a mettere in dubbio il potere da star di Meghan e Ferri. L'esperto reale Kinsey Schofield, ha detto che lo spettacolo potrebbe non essere stato quello per cui Netflix si era iscritto. Forse alcuni dirigenti si sono seduti e l'hanno guardato, e hanno detto che va bene. Ma non è quello per cui ci eravamo iscritti. Penso anche che le persone siano un po' stanche di Ferri e Meghan, ha detto la signora Schofield a TalkTV. Al contrario, l'ultimo film Netflix del Duca e della Duchessa, Ferri e Meghan, è balzato in cima alle classifiche.